amici di radio roma sporta salve e buonasera d'alberto fiano l'immancabile appuntamento l'ultimo per quanto concerne questa stagione con il punto sulla roma dopo roma genova del 28 maggio ovviamente corrente anno finalmente questo secondo posto tanto ambito tanto ambito tanto sofferto tanto bramato tanto sudato è realtà un secondo posto che per la roma era di importanza vitale a livello economico e anche di grande fondamentale importanza per quello che poi era l'impostare il prossimo progetto tecnico di rafforzamento per la stagione che ossia 2018 2019 anzi 2017 2018 scusate avevo detto che c'era da soffrire purtroppo perché dopo tanti anni di esperienza nel calcio un po lo conosco e soprattutto conosco un po la roma visto che la seguo come tifoso da circa 40 anni e la e come anche giornalista la seguo da anche la da qualche anno quindi conosco bene i miei polli o i miei lupi e meglio ancora una partita oggi dalle fortissime emozioni io ho atteso per fare questo punto perché ora mi sta tornando la voce ero lì inviato per roma dal credio e colgo l'occasione per salutare roma dal credio gli miei amici andrea materi e fulvio micozzi e ringraziarli per l'onore e il privilegio che che oggi mi hanno dato per stare lì come inviato a raccontare questa incredibile domenica romanista fortissime emozioni veramente il napoli che vinceva a genoa come era preventivabile e invece la roma che soffriva oltre ogni misura con un genoa ormai senza nulla più da chiedere al campionato al novantesimo diego perotti firma un 3 a 2 che fa esplodere l'olimpico e libera i 63 mila presenti compreso il sottoscritto da un incubo che si stava materializzando beffardo come sempre poiché i ricordi di roma lecce stagione 85 86 di roma livorno stagione 87 2007 2008 scusatemi e di roma sandoria stagione 2009 2010 ma lì la samp era in piena lotta champions qui invece il genoa ormai era salvo il livorno nel 2008 era retrocesso così come il lecce nel 1986 quindi si stavano materializzando nuovamente questi incubi per fortuna poi diego perotti e lì lo predissi in diretta al mio amico andrea materia dico speriamo visto che il genoa poco pochi minuti prima aveva fallito un gol con lasovic se non erro lanciata rete che coglieva il palo con scesni in disperata uscita ho detto speriamo che le leggi del calcio questa volta vanno a sovvertire una sorte triste per la roma e che scattino inesorabile ossia gol mangiato col subito e che il gol dell'ex questa volta premi i nostri colori così è stato ne sono contento oggi in quanto al gioco la roma non ha espresso un bel gioco perché ha peccato molto di imprecisione molto di difetto di cinismo come sua consuetudine atavica purtroppo questo è il difetto più grave perché il cinismo io lo ripeterò alla nausea è l'essenza delle grandi squadre però tutte cose che passano in secondo piano poiché era oggi c'era da vincere e basta senza badare a troppi fronzoli a troppi per me merletta troppa e troppi estetici appunto la roma consegue un secondo posto strameritato perché l'ha tenuto per tutto il campionato e perché sudato e conquistato sul campo visto che mai nessuno le ha regalato le ha regalato nulla nella sua storia a fine partita il tributo a totti a totti il capitano chiude un quarto di secolo con la roma 25 anni dove ci ha fatto saltare dai seggiolini o dalla poltrona migliaia di volte dove ci ha regalato perle emozioni gol gioie indescrivibili rimarrà nella leggenda del calcio italiano non solo della capitale veramente è stato toccante io non ho parole per descrivere le forti emozioni che a fine partita ha visto protagonista totti che chiude la sua straordinaria carriera e quindi il mio più grande lupo il mio più grande in bocca al lupo a francesco totti per il suo futuro e i miei ringraziamenti 250 volte grazie anzi 307 volte grazie quanti come come sono i tuoi gol totali nella roma in questi 25 anni capitano quindi veramente 307 volte grazie di cuore per quello che ci hai dato ci hai fatto vivere e per come ci hai sempre emozionato e rappresenta anche pallotta e rappresenta anche pallotta io spero lo dico col dovuto rispetto che il presidente quest'oggi si sia reso conto che cose che cosa significa essere della roma che cosa significa rappresentare la roma visto proprio proprio l'uragano di passioni e di emozioni che si sono vissute e che cosa sono i tifosi della roma e cosa meritano perché lo ripeto col dovuto rispetto senza nessuna vena polemica signor presidente pallotta se lei non l'ha capito quest'oggi non lo capirà mai in vita sua sarà veramente un grandissimo peccato soprattutto per lei perché a livello umano perderebbe tanto 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 davvero quindi speriamo che ora con l'obiettivo raggiunto di questo secondo posto vitale con soldi freschi che entreranno imminenti grazie alla diretta qualificazione alla champions league lei e i suoi uomini da baldistoni da il neo arrivato a monci facciate di tutto per allestire una squadra davvero competitiva e che possa finalmente a far tornare a gioire i propri tifosi alzando un trofeo perché è veramente ora è l'augurio più grande che ci facciamo signor presidente e altro non mi viene da dire perché le emozioni dentro di me ancora sono forti veramente tante e quindi penso di aver detto tutto insomma tutto davvero non mi resta che ringraziare voi per l'ascolto che mi avete mostrato per l'attenzione per seguirmi in questa stagione con questa rubrica del punto sulla Roma e auguro a tutti voi delle buonissime vacanze gentili ascoltatori qui da Radio Roma Sport riprenderanno le trasmissioni con questo immancabile appuntamento ovviamente all'inizio poi di quello che sarà la prossima di quella che sarà la prossima stagione vi invidio comunque a continuare a seguirci su Roma Talk Radio ogni lunedì o martedì mattina dalle 10.30 alle 12 anche sulla pagina facebook del sottoscritto o della stessa radio questo è e ringrazio nuovamente i miei amici di Roma Talk Radio e mando un saluto a Fulvio Micozzi a Andrea Materia do un grandissimo saluto al mio carissimo amico Roberto De Angelis che con Stefano Tini ogni venerdì pomeriggio mi ha dato l'onore e il piacere anche quest'anno di partecipare alla loro trasmissione questa è la Roma do un grande abbraccio al mio amico Nicola Caprera microfono d'oro stagione 2016 per quanto concerne la trasmissione lì inascoltabili do un grande saluto alla mia amica ex gazzetta dello sport giornalista e di grande difusa della Roma Natalia di Porto e ricordo che chiunque venga all'agenzia del sottoscritto sia il Magalberto sita in via candia 141b a Roma zona Prati prima del 3 giugno ossia entro anche il 3 giugno stesso e vuole giocare 5 euro sull'esito della finale Champions tra Real Madrid e Juventus avrà in regalo un'apertura conto gioco online di 10 euro offerta dalla sala ricordo anche che chi viene sempre in agenzia in qualsiasi periodo o momento dell'anno a nome delle trasmissioni questa è la Roma Roma Talk Radio è gioco pericoloso la trasmissione in onda ogni giovedì sera dalle 21 alle 22 e 45 su Tirobio 56 condotta dal mio amico Cuglielmo Timpano che saluto e a co-audioveato dal suo braccio destro Flavio Maria Dastotti che anche a lui porgo un saluto avrà pronunciando la parola magica daglielo ma daglie avrà in regalo sempre una giocata gratuita di 5 euro sulle scommesse reali o sui giochi virtuali ed altri 5 euro di gratuiti come bonus per aprire un conto gioco online anche a 0 euro e avrà ugualmente caricati 5 euro offerti sempre dalla sala quindi offerte imperdibili vi aspettiamo numerosi con questo è davvero tutto vi ringrazio l'obiettivo è stato raggiunto in campionato la Roma non poteva far di più e casomai rammarico ci sta per le coppe soprattutto per quanto concerne l'europa league però ormai quello che è stato è stato l'obiettivo minimo è stato raggiunto quindi che sia propedeutico e di buon auspicio per impostare al meglio una prossima stagione dove si dovrà per forza di cose tornare a vincere perché questo straordinario pubblico che si è visto anche oggi lo merita davvero con questo è davvero tutto vi auguro la buonanotte vi ringrazio per l'ascolto e per avermi seguito tutta questa stagione vi auguro ripeto delle buonissime vacanze e chiudo con il mio mancabile comunque sempre di più dagli ero madaglie e aggiungo un'altra volta e 307 volte grazie di cuore totti ciao e buonanotte qui da radio roma sport alberto fiano